Leggo condomino, amo molto stare alla finestra e avevo visto appunto dalla finestra un condomino portato via da un'ambulanza e il giorno dopo l'ho visto ritornare e ho scritto questa poesia. Sentirete parlare di soldati perché allora abitavo in fronte a una caserma e tutte le mattine alle otto venivo svegliata dall'inno Fratelli Italia. Mi ha chiesto se per questo l'ho cambiato caso. Condomino, cammino piano, qua sotto al terzo piano dorme un condomino morto. È tornato morto stasera dall'ospedale, gli hanno salito le scale, gli hanno aperto la porta anni senza suonare. Ha usato per l'ultima volta il verbo entrare, ha dormito con noi altri condomini, essendo notte sembrava a noi uguale. Ha dormito otto ore, ma poi ancora, e ancora, e ancora, oltre la tromba mattutina dei soldati, oltre il sole alto nel cielo. Ora che noi ci muoviamo non è più a noi uguale. È un condomino morto, scenderà senza piedi le scale. Era gentile, stava alla finestra, aveva un canarino, aveva i suoi millesimi condominiali. Guarda, mi stanno spuntando le armi.